La bussola, perché prima mi cercavano di brutto. Ah sì, ma ti hanno provato a sparare? No, però mi hanno sgamato, ero nella casa, mi stavo muovendo e avevo paura perché sono entrati, hanno fatto qualcosa in casa e pensavo che me l'avevano minata. Hai detto che sono a nord? Sì, sono a nord. Io penso di essere a sud. Provo a svignarmela. Ma di che città? Polana. Polana. Te ne ho prendo il tablet, cosa ne ho capisco di... Preso, uno è a terra. Sentite il colpo, c'è stato tu? No, uno è a terra. No, questo non sono io. Un altro colpo? No, non sono io. Uno è a terra. Merda. Zombie. Ne vado. Dai, Dan, dai, Dan. No, Davies. Buono. Uno l'ho preso in pieno. E lei è mortato. Sì. L'ho preso ancora ma non è morto. Merda, mi avevo spostato ancora. L'ho preso per bene ma non è morto. Non sono io, non sono io. Ma li senti? Sì. Non sono io, non sono io. Gorkan, qua Gorkan. Mi sto sciacquando dei coglioni. Allora Beach. Sì. Ascoltami, sono sul lato, verso sud del paese. Io adesso sto cercando di fare il giro. Loro sono sulla strada, erano sulla strada a nord. Prova a prenderli alle spalle. Sì. Perché anche io mi sa che sono su? Uno è badly wounded. Sono dentro la casina. Un po' con il terzo ho perso totalmente il contatto. eh ma qua ci stanno solo campi lo cazzo vado io boh mi è sembrato di sentire non un veicolo ma no interessante ok ne vedo lo vedo quello che ho preso non so quanti metri è ma è dura prenderlo da qui preso morto mamma mia ragazzi ne manca uno che cazzo di killer che sei ne manca uno pitch devi uscire fuori però mi devi dare una mano questo si è rintanato da qualche parte non so dov'è io sono